Ci sono tre tipi di uomini, i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. Il canto del lupo è il nome in codice di un sonar nemico, di un pericolo in avvicinamento che solo un orecchio d'oro può avvertire. Analista acustico dall'udito eccezionale, Chantere si è guadagnato quel soprannome sul campo e il suo campo è il mare. Infallibile fino a quel momento, commette un errore e deve rispondere ai superiori della defaianza. Sceneggiatore di fumetti con lo pseudonimo di Abel Lanzac, Antoine Baudry cambia corpo ma non spirito, firmando una spettacolare opera prima che non dà tregua. Il film coniuga con audacia rara, intrigo geopolitico e thriller d'azione. Un matrimonio tra riflessione profonda e immersione totale, tra azione pura e studio dei caratteri. Wolf Call non è soltanto un film d'azione, è soprattutto un confronto tra uomini che condividono lo stesso destino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.